Quindi comunque per la questione di rispetto noi continuiamo in questo modo se vedete in giro qualcuno che lo fa più di una volta sono cinesi 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 qua adesso inizia a cinesi a farvi ballare un'altra volta con il taburo poi una volta finito di andare in giro si entro io sempre lo stacco a cinesi